In studio, Marco Scavino. Viviana Sammito. Il governo nazionale sta facendo la propria parte con uno sforamento di 30 miliardi. La Sicilia si impegnerà a individuare delle risorse, farà la sua parte nei limiti del possibile, ma la farà. È già anticipato la moratoria, per esempio, sulle scadenze e i rifiessi di fine anno. Questa è soltanto la prima parte. A breve saremo più chiari per spiegare alla collettività siciliana quello che può dare e darà la Sicilia. Sulla lunga durata, ha riferito il Presidente della Regione, vogliamo puntare su una maggiore autonomia energetica. Una volta insediato il governo, elaboreremo insieme delle iniziative che possono permettere di usare al meglio le risorse dell'isola. Mi batteremo anche per avere un ritorno economico da ciò che viene estratto per ottenere delle risorse finanziarie da mettere a disposizione della Sicilia. I rappresentanti hanno consegnato al Presidente Schifani un documento unitario contenente una serie di richieste contro il rincaro dei costi energetici e delle materie prime. Confindustria, Catania e Codacon si incontreranno in governatore nei prossimi giorni per affrontare questo delicato tema e studiare misure di contrasto all'emergenza energetica. E ascoltiamo le interviste realizzate proprio durante il corteo. I siciliani non le possono più. Continui tagli, potere d'acquisto che diminuisce, un'inflazione alle stelle. E da questo si aggiunge il caro bollette. Noi chiediamo interventi urgenti, non solo bonus, investimenti. Affrontare una volta per tutte il problema serio, quello dell'approvvigionamento dell'energia per non dipendere dall'estero. Noi siamo oggi in piazza per iniziare un percorso con il nuovo governo, confrontandoci per trovare soluzioni. Nonostante i lavoratori agricoli hanno lavorato anche durante la pandemia mantenendo e garantendo il cibo nelle tavole degli italiani, oggi sono costretti a pagare delle bollette sose. Oggi non si riesce più a fare la spesa nei supermercati perché la speculazione ha aumentato tutti i prezzi delle materie prime. Il caro energia sta falcidiando il potere di acquisti, di salari, stipendi e pensioni. Siamo in piazza per rivendicare alcune misure urgenti che non sono più rinviabili, a partire dal taglio del cuneo fiscale per aumentare il netto in busta paga di lavoratori e lavoratrici e pensionati. Siamo in piazza per rivendicare il blocco del costo dell'energia che sta crescendo anche con una forte speculazione perché non è giustificata dall'evoluzione del mercato. E poi per rivendicare il fatto che si debbano adottare misure strutturali. Non possiamo permetterci di far chiudere le salle cinesche alle aziende e in principale gli artigiani che ogni mattina si alzano alle 5 di mattina con l'orgoglio di essere artigiani, di produrre e di portare avanti una parte del PIL siciliano. 125.000 imprese sono disposte a mettere sul proprio capannone un voto voltaico. Dalla stima che abbiamo fatto produrrebbe 60.000 mega di energia elettrica che è per tre volte di quelle che abbiamo installato in tutta Italia. Siamo tutti in piazza qua a Palermo per manifestare. Abbiamo presentato 16 punti programmatici per dare risoluzione immediata a questo grave disagio. E quindi per la prima volta abbiamo dato un segno non indifferente. È una protesta pacifica, è una protesta di responsabilità. È il momento in cui noi portiamo le istanze della sofferenza dei nostri imprenditori, dei collaboratori, dei pensionati, delle famiglie, di chiunque oggi stia soffrendo terribilmente la partita del caro Bollette. La cronaca adesso con la storia che arriva da Termini Merese finita con una soluzione per un uomo che ha vissuto un reale dramma. Ci racconta tutto questo servizio. Ascoltiamolo. Moglie e figlia minorenne avevano depositato un esposto per maltrattamenti in famiglia e violenza. Era il 2016. Un funzionario della Corte dei Conti è stato assolto dopo sette anni di processi lunghi e devastanti. E dopo un arresto. Dopo 13 giorni di carcere fu lo stesso GIP che firmò l'ordine di cattura ad averlo rimesso in libertà. I legali della difesa Claudio Gallina Montana e Valeria Minà hanno saputo dimostrare che l'accusa di violenza era falsa così come quella di maltrattamenti in danno della moglie e della figlia. Sia i consulenti della procura sia quelli del GIP hanno concluso che non ci furono abusi. Oggi davanti al giudice monocratico la soluzione è anche per i maltrattamenti. Le recenti dichiarazioni della figlia hanno dato la svolta definitiva alla causa giudiziaria. Una volta maggiorane la ragazza ha rivelato che a spingere a denunciare il padre era stata la madre che si stava separando dall'uomo. Il giudice ha inviato le carte alla procura per stabilire responsabilità nei confronti delle due donne. La Angioni, pubblico ministero che si occupò della sparizione, della scomparsa di Denise Pipitone, cambia linea. Ovviamente sono i suoi legali, i suoi difensori che cambiano linea e rinunciano ai testi il servizio. Rinuncia ad ascoltare gli ultimi testi citati. E questa è la linea della difesa dell'ex magistrato Maria Angioni sotto processo a Marsala per false informazioni al PM nell'ambito delle nuove indagini aperte dalla procura sul caso Denise Pipitone nella primavera dello scorso anno. Ha rinunciato dunque ad ascoltare gli ultimi testi che aveva citato, e cioè Stefania Letterato e l'ex consulente tecnico della procura di Marsala, Paolo Agate. Oggetto del processo è la presunta inaffidabilità o infedeltà all'epoca dei fatti del commissariato di Mazzara. Come ha appaventato la Angioni, che fu uno dei PM che coordinò le indagini sul sequestro di Denise Pipitone e che, in una precedente udienza del processo a suo carico, ha dichiarato che da maggio 2005 non diede più deleghe di rilievo alla polizia di Mazzara, ma soltanto adempimenti meno importanti. Nella precedente udienza aveva già rinunciato ad ascoltare Piera Maggio, madre di Denise Pipitone, la bambina scomparsa a Mazzara del Vallo, il primo settembre del 2004, quando aveva poco meno di quattro anni. Ormai, ai fini del processo, ha spiegato l'avvocato difensore Andrea Pellegrino, le testimonianze già rese sono sufficienti per il prossimo 5 dicembre. È prevista la requisitoria PM Roberto Piscitello e la sentenza. Per l'accusa, invece, ci sono atti da cui si evince la perduranza delle indagini di polizia del commissariato di Mazzara anche dopo maggio 2005. Sono 49 documenti di quell'anno e non si tratta di deleghe poco importanti. Il processo a Langioni si svolge davanti al giudice monocratico Giuseppina Montericcio. Adesso facciamo il punto su ciò che sta accadendo a Catania in riferimento all'immigrazione. Non ci muoveremo da qui fin quando non scenderanno tutti i migranti dalla nave Humanity One. E quanto afferma il suo comandante, che è dal molo di Levante a Catania, dove la nave è attraccata da sabato notte, ha spiegato come vulnerabili sono anche i soggetti ancora sulla nave, che ha detto non sappiamo quanto possono resistere psicologicamente. 35 le persone rimaste a bordo della Humanity One e più di 200 quelle sulla Geobarens. Nel primo pomeriggio di oggi, tre migranti proprio a bordo della Geobarens si sono tuffati in acqua dalla nave ancora bloccata nel porto Ettenneo. Soccorsi e recuperati non hanno riportato conseguenze. E adesso cosa si farà? Per quanto riguarda la Humanity One, a spiegarlo è l'avvocato che difende la ONG Riccardo Campochiaro, evidenziando che ci si muoverà su più fronti. Un ricorso al Tardellazio, un ricorso d'urgenza a depositare al Tribunale Civile di Catania e la richiesta per la protezione internazionale per le persone rimaste a bordo. Nel caso positivo, chiaramente avessimo un riscontro positivo da parte del TAR, consentirebbe appunto di non considerare più efficace il provvedimento interministeriale. Ci chiediamo come sia stata fatta la selezione su chi è sceso ieri dalla nave e chi invece è rimasto su. Quindi parlando con loro abbiamo fatto un'informativa legale sulla possibilità di chiedere protezione internazionale. L'altra azione legale che stiamo portando avanti è un ricorso d'urgenza che riguarda il diritto di queste persone a entrare nel territorio italiano perché hanno diritto, come le altre che già sono sbarcate, ad un porto sicuro. Il legale annuncia anche che ci sono associazioni che si stanno muovendo per presentare un'espossa alla procura di Catania sul trattamento dei migranti e sullo fatto che non siano stati fatti sbarcare tutti. Intanto la Commissione europea ha ribadito che vi è il dovere morale e legale di salvare le persone in mare in base alle leggi internazionali. Ha ricordato che nelle norme internazionali dovrebbe essere fatto ogni sforzo per garantire che il tempo sia ridotto al minimo per le persone che rimangono a bordo di queste navi. Le interviste realizzate da Sara Donzuso I migranti arrivati a Catania sono stati trasferiti al Palas Pedini per una prima accoglienza e per un passo caldo così come già erano stati distribuiti i passi caldi anche sulle navi. È l'accoglienza che sa dare Catania così come ha sottolineato l'Arcivescovo che auspica che tale accoglienza sia totale tenendo conto che coloro che sono rimasti a bordo provengono da situazioni di grave disagio oltre che da molti giorni di navigazione. Un'accoglienza, detto l'Arcivescovo Ettenneo, attente e responsabile. Un criterio selettivo tradisce soprattutto un senso di umanità nei confronti di persone che sono profondamente segnate non solo da molti giorni passati in mare ma anche da una situazione pregressa. Ormai viviamo in una Europa che non è solo l'Europa unita economicamente ma è un'Europa che condivide dei valori condivide determinati aspetti legislativi perché non condividere anche la responsabilità nei confronti di chi fugge. Ecco, il legislatore ma anche coloro che si sono susseguiti negli ultimi governi dovrebbero chiedersi perché non è stato messo mano. Adesso è arrivato il momento decisivo di applicare determinate leggi però di rivedere dal punto di vista europeo come muoversi. Diverse le storie di questi migranti così come ci racconta il presidente Ettenneo della Croce Rossa italiana. Questo di questo bambino che era un bambino apprendente tranquillo quando ha avuto la possibilità di fare una chiamata a Whatsapp e ha visto la mamma scoppiato di piangere lui tutti i volontari attorno perché capivo la difficoltà lo strazio di una donna che lascia il figlio con una speranza di una vita migliore e di un bambino che ovviamente in tenenità affronta un viaggio piuttosto importante per poter avere un viaggio migliore. Nel 2022 sono 43.796 i migranti sbarcati in Italia 9.713 pari al 22% sono stati portati da navi ONG e quanto emerge da un grafico mostrato oggi al ministro delle infrastrutture Matteo Salvini nella sua visita alla centrale operativa della Guardia Costiera il flusso totale partito dalla Libia è di 62.596 persone ma 18.800, il 31%, sono state riportate indietro altri 24.666 sono invece partiti dalla Tunisia in questo caso il contributo delle ONG è stato minimo solo 86 salvati ulteriori 16.118 migranti sbarcati in Italia invece sono giunti dal Mediterraneo orientale ancora la cronaca in primo piano ma cambiamo argomento andiamo a Palermo un centro massaggi che nascondeva una florida attività di prostituzione è stato scoperto dalla polizia massaggi ma soprattutto anche altro il tutto in centro a pochi passi dal commissariato un centro massaggi abusivo dove sarebbero state praticate prestazioni sessuali a pagamento è stato scoperto dagli agenti del commissariato Libertà nel capoluogo siciliano come detto in pieno centro il magazzino che ospitava il centro che si trova non distante dagli uffici della polizia è stato sequestrato e due cinesi una donna di 34 anni e un uomo di 54 sono stati denunciati per sfruttamento favoreggiamento e induzione alla prostituzione le indagini sono scattate dopo le proteste dei residenti che segnalavano la presenza continua di uomini presso quel magazzino che non aveva neanche un'insegna commerciale quando i poliziotti hanno fatto irruzione all'interno del locale hanno trovato una giovane donna che stava massaggiando un uomo un cliente dunque e un'altra donna che si trovava alla cassa il cliente ha raccontato agli agenti di aver pagato 100 euro dagli accordi prima del pagamento il massaggio sarebbe terminato poi con una pratica sessuale ha sempre raccontato agli agenti il cliente trovato all'interno del centro il controllo sul locale è stato eseguito con i tecnici dell'ASPE di Palermo che hanno riscontrato carenze igienico-sanitarie che hanno portato al sequestro del magazzino l'aggressione delle poliziotte arriva a un avviso orale giudizio per direttissimo con non convalida dell'arresto e avviso orale per il 28enne bengalese che lo scorso 1 novembre ha aggredito a Catania due poliziotte l'uomo nel primo pomeriggio di lunedì si è scagliato contro le due agenti che si erano avvicinati a lui per verificare di cosa avesse bisogno mentre si presentava presso il corpo di guardia della questura dove rivolgeva delle incomprensibili richieste alla personale di polizia pare che l'uomo volesse parlare solo con poliziotti uomini ed è per questo che si sarebbe scagliato contro una poliziotta colpendola con pugni al volto e alla spalla che le causavano evidenti lesioni immediatamente grazie all'intervento di ulteriore personale della polizia a corso sul luogo l'uomo è stato bloccato e arrestato l'autorità giudiziaria oltre a convalidare l'arresto ha applicato la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria inoltre nei confronti dello stesso giudicato soggetto pericoloso per l'ordine e la sicurezza pubblica previo nulla ossa all'autorità giudiziaria è stato emesso il decreto di trattenimento del questore della provincia di Catania in quanto richiedente protezione internazionale e quindi condotto presso il centro di permanenza per i rimpatri di Caltanissetta l'autore dell'aggressione e danni della poliziotta che in passato è risultato essere stato autore di reati simili è stato inoltre sottoposto alla misura di prevenzione dell'avviso orale con cui è stato diffidato a tenere una condotta conforme alla legge in caso contrario potrà essere proposto per l'applicazione della misura di prevenzione alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza andiamo a Vittoria dove gli alunni del Marconi hanno protestato questa mattina ci racconta tutto Viviana Sammito la vostra indifferenza sta cancellando il nostro futuro vogliamo i nostri diritti aprite laboratori il grido di protesta di una rappresentanza degli studenti dell'istituto di istruzione superiore Guglielmo Marconi di Vittoria la scuola di indirizzo professionale manutenzione assistenza tecnica in gastronomia specialità alberghiera l'industria artigianato per il made in Italy è secondo la denuncia degli studenti carente di ogni strumento per garantire la continuità formativa e se c'è di stamattina l'atto finale di un malcontento generale dell'indifferenza delle istituzioni scolastiche il motivo della protesta nelle parole di uno studente abbiamo provato a parlare tante volte con la preside e con i vari professori senza aver mai concluso effettivamente noi stiamo scioperando perché nelle classi di estetica e nelle classi di manutenzione mancano professori e attrezzi invece invece nelle classi di sala e cucina nell'alberghiero abbiamo mancanze di materiale e da un anno su per giù facciamo le cose con gli alimenti stati nessun riscontro da parte della dirigente scolastica Anna Giordana ha contattato il commissario del libero consorzio comunale di Ragusa Piazza ha riferito che sono questioni gestionali e organizzative che deve riuscire a risolvere la scuola stanto il fatto che la dirigente scolastica e non ha mai esposto nessun disagio di servizio all'ex provincia la legalità approda all'istituto comprensivo Carlo Amore di Modica lo fa con un progetto promosso dall'istituto e rivolto a tutte le classi sentiamo chi tace e chi abbassa la testa morirà più volte ogni volta ne lo fa mentre chi ha il coraggio di parlare e affronta tutto morirà una sola volta e con una citazione del giudice Giovanni Falcone che si affronta il tema della legalità nelle terze classi del plesso di Amicis di Modica nell'istituto comprensivo Carlo Amore di Frigintini protagonista del primo incontro di un progetto sulla legalità avviato dal dipartimento di lettere con il coinvolgimento di tutte le materie di istituto oggi dibattito con libera associazioni in nomi e numeri contro le mafie e gli studenti appartenenti a cinque classi del plesso sono rimasti entusiasti del progetto questo progetto ha lo scopo di far capire ogni singolo cittadino soprattutto di noi ragazzi adolescenti che se vogliamo possiamo dare una mano alla società a liberarci dalla mafia e io sono contro appunto la mafia e mi venderò per far arrivare anche gli altri al mio punto al mio scopo secondo me bisogna comportarsi in un determinato modo rispettare le regole avere una visione di insieme tra tutti gli individui della città e anche del resto quello di stamane è il primo di tre incontri che si svolgeranno con l'associazione libera l'attivo è quello di sensibilizzare i ragazzi verso temi che fanno direttamente riferimento al loro futuro e poi questi percorsi si indirizzano tutti verso la realizzazione di una giornata il 21 marzo la giornata in ricordo di tutte le vittime innocenti delle mafie e che quindi vede i ragazzi essere sensibilizzati proprio sulla memoria di queste vittime un percorso che si snoderà in una serie di iniziative avremo anche modo poi sicuramente di organizzare un percorso un viaggio di istruzione che in questo percorso così che ci accompagnerà per l'intero anno consentirà di vedere anche i luoghi visitando i quali i ragazzi potranno constatare realmente ciò che significa educazione e la legalità e quindi ricevere una forte importante connotazione formativa in questo settore domani protagonista dell'incontro con l'associazione libera le terze classi della centrale e della cannizzara all'istituto Carlo Amore di Frigintini la qualità della vita adesso con una nuova graduatoria che non vede in testa le nostre province pubblicata la ventiquattresima edizione della classifica sulla qualità della vita in Italia stilata da Italia oggi e da Università La Sapienza di Roma aperta da Trento e chiusa da Crotone nulla di nuovo insomma con il nord che primeggia e il sud delle isole che arrancano si confermano infatti fanalino di coda tutte le province siciliane con Ragusa in testa all'ottantaquattresimo posto seguono Trapani al novantatresimo Messina al novantaseiesimo Enna e Palermo al novantasettesimo e novantottesimo Catania è centoduesima e Agrigento la segue Caltanissetta è terzultima penultima e Siracusa I settori analizzati per stilare la classifica sono affari e lavoro sicurezza sociale istruzione e formazione tempo libero reddito e ricchezza ambiente reati e sicurezza sistema salute nello specifico Agrigento è penultima per reddito e ricchezza per ambiente Agrigento ed Enna sono invece a metà classifica per reati e sicurezza Ragusa si piazza al trentesimo posto e le altre siciliane non sono alla fine della classifica per il sistema salute Palermo è tredicesima Agrigento novantaduesima ci fermiamo c'è la pausa pubblicitaria MTG torna tra poco bentrovati seconda parte del nostro telegiornale l'esercitazione del sisma dello stretto si è conclusa il bilancio in questo servizio 50 i comuni di cui 37 in Calabria e 13 in Sicilia che sono stati coinvolti nell'esercitazione sisma dello stretto 2022 organizzata dal Dipartimento della Protezione Civile con le regioni Calabria e Sicilia e che si è conclusa ieri dopo tre giorni che hanno permesso a tutte le componenti e al servizio nazionale di misurarsi in numerosi scenari allestiti tra le province di Reggio Calabria e Messina nell'ambito della simulazione di un non terremoto di Manghiduto 6 con conseguente allerta maremoto e con un significativo livello di impatto su abitazioni e popolazione proprio per la possibilità di un non maremoto è stato testato su una platea di oltre 500 mila persone il sistema di allarme pubblico Hit Alert che ha inviato sui cellulari dei cittadini presenti al momento della scossa in 19 comuni costieri delle due regioni un messaggio di informazione sull'esercitazione in corso relativa all'allerta maremoto alla parte reale definita full of scale dell'esercitazione sono scesi in campo 3.500 tra operatori tecnici e funzionari delle strutture operative delle istituzioni territoriali dei centri di competenza tecnico-scientifiche oltre 3.000 volontari delle organizzazioni nazionali e locali quasi 2.000 sono state inoltre le risorse impegnate nelle attività per posti di comando ovvero da remoto come ad esempio la verifica della comunicazione tra i centri operativi attivati e diversi livelli territoriali particolarmente importante è l'applicazione del protocollo di Isevac che ha permesso di poter simulare l'evacuazione di persone affette da disabilità questo è un PH 139D è l'ultima generazione di velivoli del Leonardo per la Guardia di Finanza questo in particolare è dotato di un sistema radar di telecamere elettroottiche infrarossi in questi frangenti come l'esercitazione che ci stiamo accingendo a eseguire è un velivolo che porta molti vantaggi soprattutto per quanto riguarda la sorveglianza aerea delle situazioni che possono essere pericolose per la popolazione quindi è un occhio vigile e soprattutto immediato per dare anche una risposta a chi sta operando a terra con il miglioramento delle condizioni meteomarine si è normalizzata l'attività di collegamento marittimo da e per le isole eolie i mezzi di linea oltre a Lipari Vulcano e Salina collegate anche ieri con qualche mezzo hanno raggiunto le isole di Alicudi Filicudi Panarea Stromboli e la frazione di Ginostra rompendo l'isolamento che durava da 36 ore andiamo adesso a Vittoria per conoscere uno degli attori di un film che sino a ieri ha fatto registrare un nuovo record al botteghino è il film con maggior numero di incassi di questa stagione stiamo parlando della stranezza un film che racconta anche della nostra terra Un trionfo un film capace di mettere d'accordo tutti sia i critici cinematografici sia gli spettatori che lo stanno premiando ai botteghini La stranezza di Roberto Andò interpretato da Tony Servillo e Ficarra e Picone è il film del momento ambientato negli anni venti è una commedia nella quale il protagonista Luigi Pirandello si imbatte in una coppia di teatranti dilettanti impegnati nella realizzazione di uno spettacolo nel cast spiccano nomi molto amati dal grande pubblico e dagli appassionati di teatro e un piccolo ruolo è stato affidato anche all'attore vittoriese Massimiliano Nicosia che oggi di questa esperienza parla con emozione ed entusiasmo è stata un'esperienza molto bella perché finalmente mi sono ritrovato a lavorare con una produzione con la P maiuscola era tutto perfetto quando dici sai ognuno sa fare il suo lavoro e ho incontrato dei colleghi meravigliosi del teatro con la T maiuscola palermitano e catanese quindi Tuccio Musumeci Totino Lavantia io sono il macchinista di una compagnia teatrale ma che in realtà vale zero come è nata questa collaborazione com'è che sei stato scelto mi parlavi di un casting molto particolare vado a Palermo con un provino su parte poi c'era proprio andò devo dire che è stata una soddisfazione perché un regista che alle 4 di pomeriggio ride di cuore per quello che ho fatto io in quel momento dopo una giornata che fa i provini è una soddisfazione quali sono i tuoi progetti futuri? a settembre mi ritroverete al cinema sto lavorando per il nuovo film di Pasquale Scimeca in quanti ti hanno scritto per congratularsi per dirti insomma quello che pensano dopo aver visto il film? tantissimi conosciuti sconosciuti sì sì tanti 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 eppure nonostante la piccola parte ma se mettiamo che in tutto il film Tuccio Musumeci non ha una battuta e io ne ho una ce la posso fare ma voi voi siete Luigi Pirandello e ma Encio è tutto grazie per averci scelto buon proseguimento grazie per averci scelto